Ed eccoci qua ragazzi in questo nuovo video Io sono SenexD3 Siamo su slither.ios O slither Chiamatelo come volete Ho scaricato delle mod che si trovano Boh Su internet E ora ci andremo a giocare Che cazzo No Ok cominciamo Si è buggato Esploriamo un po' la mappa per vedere Guardate quello Quando muori dimmelo che Devo rubarti i punti Guardate qua Eeeh vabbè E vabbè Come è morto Raga Cosa sto facendo No raga Ho fatto delle Delle kill epiche Prendiamo tutto qua Non lasciamo nulla E siamo già A 3220 punti Non siamo ancora in classifica Il primo a 22.000 Cioè Tanto non lo raggiungeremo mai Quindi Sono grosso Più grosso di voi Cazzo vuoi fare coglione Volevo inglobarlo Volevo inglobarlo Guarda com'è morto quello Oh l'ho ucciso io Oh l'ho ucciso io Come l'ho schivato Che cavolo vogliono fare queste Oh raga Sono tutti scemi A parte che sta laggando un bordello Andiamo un po' Siamo lunghissimi ora Ah no non siamo al centro Andiamo al centro Faccio le kill più epiche di sempre Ah Ci sono troppi piccoli serpenti qua Vieni qui bello Vieni qui Vieni qui che ti abbraccio E E Come lo uccide E Come lo uccide Qua sono tutti scemi Cioè mi sono venuti addosso Hanno l'intenzione di suicidarsi Che cazzo ho detto non lo so Guardate quello quanto è grosso Va che roba Raga questo è il primo Credo Non lo so Bastardo dovevi morire Guarda come lo ingloba Quei piccoli Raga sta Sta laggando in un modo assurdo Ah No Eh vabbè Eh vabbè Raga io ci ho provato Questa è una prova Per Per farvi vedere Un po' le mod Eccetera eccetera Niente Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un commento Un like Tutte le robe Tanto sapete già Lo dicono tutti Non lo dicono Grazie a tutti.